Professor Cingolani, a gennaio 2024 la Fondazione Leonardo è entrata nel terzo settore, perché Leonardo ha deciso di fare outreach attraverso la Fondazione? Outreach vuol dire raggiungere l'esterno. Noi abbiamo in questo momento un ruolo sociale come azienda multinazionale della difesa e della sicurezza di spiegare all'esterno l'importanza della tecnologia per il progresso della società, ma anche l'importanza che qualcuno difenda la pace, come stiamo vedendo in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. Il terzo settore è perché queste spiegazioni, queste cose che noi vogliamo fare devono essere gratuite, noi le vogliamo offrire ai giovani e a una società che speriamo sia interessata a capire di più la tecnologia. Il nostro target sono i ragazzi, abbiamo messo in cantiere tutta una serie di attività che guardano agli studenti e ai bambini anche dalla quinta elementare a salire, perché è importante rivolgersi a loro. Perché siamo in un momento in cui i social hanno distrutto il concetto di fonte scientifica e di rigore scientifico, per cui sono nate cose inaccettabili come chi dice che i vaccini fanno male o come chi dice che la terra è piatta. Bisogna organizzare un cosiddetto controcanto, però basato sulla serietà, sull'informazione e sul metodo scientifico. Questo lo si fa partendo dalle nuove generazioni. Noi dobbiamo spiegare in maniera chiara, facile, con metodologie molto avanzate, prevalentemente digitali ai giovani, cosa vuol dire tecnologia, cosa fare con la tecnologia. Ed è anche l'unico modo per attirare più giovani ragazzi e ragazze nel curriculum STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, di cui ci sarà un bisogno crescente nei prossimi decenni e noi ci ritroveremo anche con l'industria che non riuscirà a reclutare persone perché mancano le competenze. L'idea quindi è condividere conoscenza e cultura e ovviamente non possiamo fare tutto da soli. Ma è fuori di dubbio. Noi come Leonardo siamo grandi, facciamo uno sforzo che non ha precedenti per produrre questi contenuti e metterli gratuitamente a disposizione di chi? Degli studenti delle scuole. E questo non può che essere fatto in collaborazione con le scuole. Stiamo chiudendo un grande accordo con il Ministero della Scuola e ovviamente apriamo questa sfida anche a tante aziende come la nostra che hanno forti contenuti tecnologici non solo in Italia e a tante entità, altre fondazioni che vogliono sposare questo progetto. L'idea è quella di dare un'informazione chiara, onesta, comprensibile, accessibile a tutti gli studenti dai sei anni in poi perché questo sarà il miglior investimento per le future generazioni STEM.